Ciao a tutti, ciao ragazzi e buon Santo Stefano a tutti voi. Viste considerata la giornata di festività, viste considerata la sosta, io e il buon Romeo abbiamo pensato a creare questo contenuto per voi. Prima di iniziare ovviamente do parola a lui. Ciao Romeo. Ciao Lellone, un saluto a tutti, spero che abbiate trascorso un buon Natale. Ti vedo un po' appesantito, mi sai che hai mangiato tanto. Abbastanza, abbastanza. Io mi sono tenuto, infatti come puoi notare sono anche bello, bello vispo. Tu sei anche andato a correre secondo me il giorno proprio di Natale, quasi. Non esageriamo, ora non esageriamo. Finalmente ci avviciniamo a chiudere quest'annataccio. Speriamo. Infatti ho detto io il 31 gennaio non si festeggia all'arrivo dell'anno nuovo, si festeggia la dipartita di questo anno nefasto, quindi sicuramente bisognerà festeggiare per scacciarlo più lontano possibile. Oggi cosa ho pensato di fare? Viste considerato che c'è la sosta? E la sosta io la vedo sempre come un giro di boa, come nelle regate, no? Sei a metà strada, anche se in realtà le partite che dobbiamo fare sono anche altre, quelle del girone d'andata, ma sti cazzi, no? Ho sbaglio. Quante ce ne mancano per il girone d'andata? Una manciata. Manca poco, manca poco. Diciamo che c'è stato anche un bel tour de force, considerando poi l'ultimo impegno con la Fiorentina. Non sono mancate le partite. Basti pensare che poi, dopo l'ultima sosta nazionale, ci sono stati tre turni di fila di Champions. Tre turni di fila. Con Fiorentvaro, Dinamo Kiev e Barcellona. Uno alla settimana, poi, perché in genere, sai, c'era il respiro di una settimana di mezzo, invece qua... Hanno spinto, hanno spinto. E infatti gli allenatori non possono allenare, bensì devono solamente gestire il piano atletico e l'aspetto mentale. Io lo dico, ce l'ho detto fin da subito. Tutti i tecnici, quindi non vale solo il discorso per Andrea Piro, sono ingiudicabili in questa stagione. Chiaro, poi i risultati, in momento inolente, fanno sempre differenza. Ma non c'è un solo allenatore che possa cercare di trasmettere i suoi concetti a una squadra. Perché non ci si allena. Piro ha anche detto che sul piano fisico la vera Juve la vedremo dopo gennaio. Questa è una roba che ha detto puntualmente. Vedremo se sarà così. Però, insomma, io credo che anche i preparatori stiano brancolando nel buio e vanno sul campo delle ipotesi sulla creazione del lavoro che c'è da fare. Perché bastano sospensioni di mezzo e ti salta tutto il piano. Quindi... Si va a tempo. Si va a tempo. Si va a tempo. Allora, oggi diamo i voti alla squadra. Io ho creato una tier list con tutti i giocatori della Juventus e cinque categorie. Top, bene, mediocre, male e senza voto. Perché c'è anche il senza voto alla Juventus. In rosa abbiamo gente che sarà... C'è anche l'NG, non giudicabile. Esatto, il non giudicabile. Ecco. Quindi io inizierei con la condivisione dello schermo. La vedi, Rome? Sì, devo stringere un po' gli occhi perché non vedo più niente ormai. Però... Te li menziono io. Ok. Te li menziono io. Partiamo subito dai portieri a creare appunto sta roba qua. E partire dal portiere titolare. Tec Scesni, dove lo piazzeresti? Allora, leggimi sono top, bene, mediocre, male... Male e senza voto non giudicabile. Mi sembra, sai cosa, la prova della scuola guida quando devi fare la visita a pulisse che ti metti la mano? Allora... Scesni... Scesni... Eh, sai che sono combattuto tra il top e il bene. No, dai, top. Metto top? Sì, perché alla fine Scesni è un portiere che ha la grande capacità di farsi trovare pronto... Al momento giusto. Che il vero grande portiere del top club è quello che fa un paio di interventi ma essenziali. Io ho visto fare, secondo me, un paio di sbavature quest'anno. Per esempio, non mi ha convinto tanto il gol che ha preso con l'Atalanta da Freuler, che era un pochettino fuori dai pari. Non mi ha convinto tantissimo anche il gol di Letizia, col Benevento. Però poi vai a vedere sempre in quelle partite... Eh, però la parata che ha fatto a Zapata anche in occasione... Fa un miracolo, fa un miracolo su Zapata, fa un miracolo su Schiattarella, quindi... Usata al derby, che poteva essere il 2-0... Alla fine Scesni è sempre un top e quindi è giusto che vada lì, dai. Allora, secondo partiere ovviamente c'è Gigi. Gigi quest'anno poche volte ha partecipato alle partite, ma quelle volte? Che dici? Mettilo sopra Scesni, quindi andiamo addirittura sopra il top. Credo che non esista la riga. Però, onestamente, ragazzi, ha fatto due prestazioni mostruose contro Barcellona e Parma. Ha fatto cinque partite, ha subito due gol. Credo che Buffon quest'anno sia dimostrando di essere un ottimo vice, di essere un grande uomo spogliatoio, ma questo già lo sapevamo. E soprattutto credo che stia fornendo segnali giusti a se stesso e all'ambiente per andare avanti per un'altra stagione. Come tu ben sai, recentemente ho fatto un video prima di Natale sul mio canale dicendo che lui deve decidere quando smettere, non la pressione bibliotica. E quindi credo che Gigi, anche se ormai sia prossimo a gennaio, compiere 43 anni, beh, ha tutto per farsi ancora un'altra stagione, almeno. Hai voglia, hai voglia. Allora, poi abbiamo Pinsoio. Pinsoio dove vuoi che lo mettiamo? Io lo metto top perché comunque è un grande uomo spogliatoio, da quanto mi risulta. È una persona molto ascoltata. Devo dirti la verità che guardando le partite allo stadio, senza tifosi, sono lì e ascolto sempre più lui. Che è davvero caldo, cioè nei momenti di difficoltà incita i compagni, in quelli migliori li esalta. Pinsoio, poi vabbè, anche il turno di squalifica che ha preso, no? Fa capire davvero quanto tenga la Juve. Lui è cresciuto a pannelli a Juve, a Juventino. Quindi ti dico, è chiaro che sarebbe un non giudicabile perché non ha mai giocato, però è un top a livello di uomo spogliatoio. Matthijs De Ligt, cominciamo con i difensori. Eh, cosa vuoi fare? Top. De Ligt, credo di avergli dato un voto sotto il 6,5 finora, in stagione. Fortissimo. E' davvero ciò che serve a Pirlo per sviluppare il suo calcio, un centrompista aggiunto, difende a 40 metri attaccando, un giocatore mostruoso. Poi dobbiamo considerare che è giovanissimo. Sembra un ventuno, ma quando uno poi ha 20, 21 anni, ha 22, cioè gioca con questa personalità, De Ligt è destinato a diventare uno dei difensori più forti per me della storia. Uh, a voi, a 21 anni è già là, tra i migliori. E' stato capitano dell'Ajax, ha spinto l'Ajax quasi a un miracolo in Champions, regalando un dispiacere alla Juve con una zuccata che ancora ci ricordiamo. Poi ha fatto bene, credo che De Ligt finora sia davvero l'anello forte a retroguardia bianconera, ma è anche banale sottolinearlo. E ti dico un'altra cosa dell'One, che è già fortissimo, ma può crescerlo ulteriormente. Uh, a buia. Questa cosa diventa De Ligt a 25-26 anni. A 27-20... quando inizia ad avere quel pieno della maturità calcistica di un difensore che si fa un bagaglio... Justamente, se adesso tu mi chiedi i migliori difensori al mondo, io ti dico Sergio Ramos, Van Dijk e De Ligt. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Sono completamente d'accordo. Sono questi i tre più forti attualmente. Allora, invece adesso andiamo sui difensori... Quelli non forti! Quelli non forti! Aspetta però che io qua devo allungare, altrimenti non si vede un cavo. Perché me li ha tutti segati in testa, poveracci. Eh no, ma appena pari De Ligt ti commuovi, non riesci più ad andare avanti. Oh, ora vedo anche io, pensate. Bonucci! Bonucci, bene! Anche io sono d'accordo su bene. Non è stato troppo. Non è stato troppo. Non è stato bene. Perché Bonucci, secondo me, ha fatto anche delle partite... Ti faccio un esempio. A Parma la Juve fa la miglior partita, una delle migliori partite stagionali. Tutto perfetto, tranne Bonucci, secondo me. Perché magari perde l'uomo, magari forza due o tre volte il lancio. È chiaro che però è anche una fonte di gioco preziosa. E quando tu vai a trovare avversari che vanno a chiudere tutte le linee di passaggio, Bonucci è uno che gioca con... Ha la verticalizzazione che ti sblocca anche. Bonucci è questo. Bonucci ha pregi e difetti. Però i pregi sono superiori ai difetti. E in questo momento, per come è costruita strutturalmente la Juve, è un calciatore importante. Però ti dico, per me il difensore è De Ligt, nel senso il marcatore, quello che si fa sentire, quello che tiene in zapata. Bonucci, ormai lo conosciamo, un logista difensivo. Secondo me, l'anno scorso di questi tempi stava giocando meglio. Sì. Ed è stato uno dei pochi a salvarsi della gestione, secondo me, Sarri, per lunghi tratti. De Ligt è anche un iniziano difficoltoso. Ti ricordi, tra tutti i falli di mano, eccetera. Però con Bonucci riuscirono, secondo me, a fare delle buone cose. Invece quest'anno Bonucci lo vedo meno performante, però comunque è un calciatore importante. È abbastanza efficace, comunque. Comunque, dai, il bene ci sta assolutamente. Chiellini, io direi senza voto. Chiellini senza voto, però lo giudichiamo, dicendo che credo che a giugno debba fare delle riflessioni approfondite, perché onestamente andare avanti così non fa bene a lui, non fa bene alla Juve. Io ho detto che se prende la decisione di ritirarsi è una roba corretta. Io, innanzitutto, gli auguro di fare una seconda parte di stagione che possa quantomeno mettere in difficoltà Mancini, perché sappiamo che poi per Chiellini l'obiettivo è cercare di andare a fare l'europeo. Però, finora, io capisco che sia la colonna azzurra, che sia un calciatore, una persona d'oro, Chiellini è una persona d'oro, professionista serissimo, intelligentissimo, però se andiamo a vedere la meritocrazia in nazionale è giusto che ci siano i Bonucci, i Romagnoli, i Bastoni. A Cerbi. A Cerbi. Quindi, onestamente, credo che il Chiello comunque non arriverà al punto che tu dovrai dirgli cosa fare. Una persona lo stimo talmente troppo per pensare che possa mettere davanti i suoi interessi, anziché a quel spesso. Sì, no, io sono d'accordo. Però rispetto a Diggi, ti dico, proprio fisicamente, è anche un altro ruolo. Vedo due mondi differenti. Che a pezzi, Giorgio, per ora. Allora, adesso andrei su il buon Merit De Miral. Beh, allora, bene, perché De Miral è forte. È chiaro che sta pagando... No, non è una performance. Eh? Performance, tu dici di metterlo bene? Io l'avrei messo su mediocre. No, secondo me comunque ha fatto delle belle partite. Perché è vero che ogni tanto sbaglia, è un po' troppo irruento. Però ti dà solidità e affidabilità. Cioè, tu quando vai a giocare con De Miral, sei tranquillo. Io ho la sensazione, quando c'era Rugani, non ce l'avevo. No, è vero. È un quarto come De Miral o un quarto come Rugani, con il tutto rispetto per Rugani. Però ti dico, De Miral sta pagando... Le scorie del grave infortunio ho battito a Roma nella passata stagione. Ha avuto questi problemi atletici e fisici. Però per me resta un gran giocatore, devo dirti la verità. A parte qualche intervento un po' così. È un calciatore che a me fa dormire sonni tranquilli. E anche lui, essendo molto giovane, può crescere tanto. Danilo. Top. Top, top. Bravo, anche io sono d'accordo. Quest'anno... Ma hai visto anche col Parma come si sgroppava e si inseriva per vie centrali, dettando la linea di passaggio anche a Kuluseski. Ah no, poi qua... Ma a livello difensivo... Qua c'è la mano di Pirlo, eh. Perché comunque... Fotografare subito dove potesse fare meglio. Devo dire la verità, sta facendo molto bene. Perché secondo me lui non ha i tempi per fare il laterale moderno. Ha grande fisicità, velocità, progressione. Vedi anche la porta, se vogliamo. Però poi non ha le scalate, non ha le letture difensive, non rispetta molto bene la linea. Così, in un calcio organizzato a minimo dettaglio, con l'impostazione a tre, è anche bravo. E poi è molto importante quando Pirlo prepara le partite nell'impostazione, magari sono bloccati il play, magari è bloccato Bonucci, lui è uno che si sa inserire tra le linee difensive. e ha i piedi buoni per essere una fonte di gioco. Quindi, Danilo, tu lo sai, io da terzino a me non piace. Da terzino puro la difesa a quattro. Così, invece, si è salvato un calcettore. Chiaro. Allora, invece adesso parliamo di freabotta, perché c'è lì... Mediocre, dai. Io lo metto mediocre. Credo che, con tutto rispetto per questo ragazzo, che sicuramente diventerà un bel giocatore, però non mi ha convinto quando l'ho visto. No, ma non è lui questo, poverino. L'unica partita in cui, secondo me, ha fatto... L'unica partita in cui... Neanche lì sei riconosce. Ti sembra... Guarda che ragazzi, sta vedendo... Sembra l'esame della patente. L'unica partita in cui mi ha fatto una buona impressione è stata quella con la Lazio. Dove non è stato male. Ha messo una bella palla per Morata subito, pronti via. Però lo vedo ancora tanto a Cerbo. Cioè, secondo me, deve fare gavetta e non vedo il livello della Juve. Col Benevento l'ho visto in grossa difficoltà. No, no. Col Benevento, ma anche nelle cose minime, nello stop, nella lettura dello stop stesso, capire quando rimbalza il pallone, quando prende... Cioè, sono tante cose che fa capire che un ragazzo che è giovane... Crescerà, però non è minimamente a livello della Juve. D'accordo. Quadrato? Top. Ho fatto sette assist, otto. Sette, otto assist. Otto assist. Anche Boone. La ragione è strepitosa per ora, eh. È un giocatore devastante. È un giocatore che più cresce, più migliora. Ti purica. Poi ci sono anche le piccole cose, ma che non sono piccole. Quando la Juve è in difficoltà a Genova, lui comunque va lì e si procura un rigore, capisce i momenti, nei momenti decisivi lo è spesso. Ricordiamoci, le sorti dell'avventura di Allegri, col gol del derby. Alla fine, Quadrato, quando c'è da accelerare, lo fa... anche con l'Inter, ti ricordi quel gol da andare? Il gol è incredibile. È uno che si prende le responsabilità, Quadrato, e quindi sta facendo davvero una gran stagione. Alessandro, io direi bene. Hai iniziato di nuovo bene. Tu mediocre lo metteresti. La mediocre è bene. La mediocre è bene. Beh, dai, mettiamo bene. Abbiamo avuto due ballottaggi, uno per Demirale e uno per Alessandro. Diteci voi nei commenti, insomma, dove lo avreste inserito. Mettiamolo... Te lo metto bene, perché... Comunque... Nell'ultima partita ha giocato bene col Parma. No, ma nelle ultime. Devo dirti la verità, che... Alessandro non c'è esposta, perché poi ti ritrovi a giocare con tutto rispetto con Frabotta. E se tu avessi avuto Alessandro a Crotone, lo avessi avuto, secondo me, a Roma con Alazio, quelle partite magari le vinci anche. E anche a Roma con la Roma, se ci fosse stato lui, magari non avresti sofferto, come hai partito l'Inferno, con un quadrato a sinistra, che fortunatamente non abbiamo più visto in quella zona del campo. Quindi, ti dico, Alessandro, io sono molto critico, perché io ho ancora in testa il primo Alessandro, che era un porteto, c'era un giocatore devastante. È diventato fin troppo disciplinato, fin troppo europeo. Quindi ti dico... Bene. Bene, ma mi aspetto che diventi benissimo. Chiaro. Spero. Adesso invece andiamo sui centrocampisti. Sui centrocampisti partirei subito dall'oggetto del maricato di quest'estate, ovvero Artur Melo. Ci sarebbe qualcosa tra bene e mediocre. È vero. Ti dico, per il momento bene, perché ci sono state partite buone che lui ha fatto, tipo a Barcellona, quella col Cagliari bellissima che lui ha fatto, e bene anche con l'Atalanta, prima che uscisse lui. È fatto male, mannaggia. è fatto male e la Juve poi ha sofferto perché Rabiot non ha capito che tipo di gioco con il centrocampo dell'Atalanta, mettiamo così. Però ti dico, mi aspetto anche un po' di più da lui, perché... Perché ha la possibilità di... e deve esprimere... Lui è per me il centrocampo della Juve, perché è quello che secondo me ha l'intelligenza superiore rispetto agli altri. Lui è quello che ti dite i tempi di gioco, nel senso che se decide di rallentare, Melora sa rallentare. Se decide di ravvivare l'azione, la sa ravvivare. No, però ti dico, è più bene che mediocre e comunque ci sono state quelle tre o quattro partite dove ha fornito segnali interessanti, quindi dai, teniamo il bene per ora. Ben Tancur. Allora, devo fare la media qua, perché è partito male. E sta facendo benissimo adesso. E ora sta facendo un rendimento top. Quindi ti metto bene. Ti metto bene perché Simo Rodrigo, l'ho anche detto in un video, da lui mi aspetto di più. Anche io. Io mi aspetto le prestazioni che mi hanno fatto in Parma. Sì. No, no. Ma Ben Tancur, sai cosa, anche lui, il poverino, non dobbiamo dimenticarci che era il 97. È chiaro che questa è la sua quarta stagione da Juve. Lui ne ha fatte due con Allegri, una con Sarri e questa con Pirlo. Quindi deve iniziare a diventare un pilastro di questa squadra. Ma le ultime uscite mi sono particolarmente piaciute per personalità, qualità, quindi ti dico bene. Riaggressione, riaggressione. Hai visto che non è andato a riaggredirli? Al calcio d'angolo l'ho visto con... Deve fare solo attenzione a prendere qualche cartellino in meno perché... È vero, è molto irruento. È troppo. Il peccato gli condiziona poi le partite perché lui non mi fa sentire. Però ti dico, è partito male, ora è top, quindi dai, nation bene. Rabiot. Io non sono obiettivo quando parlo di Rabiot, però sono un giornalista. Lui è partito su me bene. Poi ha fatto... Sai, è molto scostante. A me questi giocatori che alternano ottime prestazioni a cattivissime prestazioni a me sono di mediocre. Lui ne ha collezionate tre o quattro di fila che sono veramente... Ti dico mediocre. Mediocre. Perché se quelle partite dove giochi male... Però lui è partito bene. Lui a questo punto sembrava che fosse quello più performante di tutti a centrocampo, quindi non è partito male. No. Dico non è partito male, ora sta facendo male e ti dico mediocre. Aaron Ramsey. Bene perché quando gioca fa la differenza. Male la sua condizione... Se fosse stato per la fisica sarebbe stato qua. Ramsey bene, sì ci sta. Il problema è che anche Pirro l'ha detto chiaramente, va gestito. E a me i calciatori che devono essere gestiti nel calcio moderno non mi piacciono perché poi con questi calciatori qui non si è che stiamo parlando del terzo portiere. Cioè questi spostano gli equilibri di una stagione. Ramsey per caratteristiche è l'unico che può giocare in una certa maniera come vuole Pirlo. Hanno provato a mettere i McKennie, hanno provato a mettere Kuluseski, proverà magari anche a mettere Dybala, con un altro ovviamente idea di calcio, a supportare... Però quello che ti fa Ramsey gli altri non te lo fanno. Il problema è che te lo devi dosare, quindi non so quanto valga il rischio considerando quello stipendio. Diciamo che a giugno farei una bella riflessione. Manolo Portanova. Senza voto, dai. Poverino. No, vabbè, poi lui ha avuto... Con il crottone, insegnava con il crottone e diventava il mio... Con il crottone ha fatto anche un bel tiro. A parma è entrato un po' così così, però dai, credo che non lo si possa giudicare. Sicuramente è una bella esperienza per lui allenarsi in pianta stabile con questi campioni perché poi noi vediamo ovviamente le partite, ma la cosa importante per questi ragazzi è crescere quotidianamente vedendo l'elite dell'elite guardare, scrutare, imitare e lavorare. Comunque, Rome, hai notato che sulla vicenda delle spulceche della squalifica a Buffon per le parole dette a Portanova della bestemmia, hai sentito? Sì. Che ci sono i romanisti che si stanno lamentando perché Cristante... Ah, sì, sì. Però per Cristante era giusto, per Buffon no e ti spiego. Uno che si chiama Cristante non può bestemmiare, lo dice il nome, Buffon può fare. Eh, lì. Te la risolvi così, eh? Esatto, esatto. Cristante. Oh, Saita McKennie? Top. Assolutamente top. Assolutamente top. Prima partita con la Sampa abbiamo capito che potesse essere un giocatore importante. Con la Roma a fine partita ha dovuto prendere un moment perché gli arrivavano tutte le parti ed è crollato al pari degli equilibri collettivi. Peggiore partita stagionale della Juve. Assieme a quella con il Barca. Il resto determinante per esempio con lo Spezia. E poi, però, tra Spezia che dà quella palla amorata, il gol col Toro, il gol al Barca. Ma in generale poi un grande cuore, un grande dinamismo forte, forte, un ragazzo d'utile, disciplinato che può ancora crescere tanto. Tra l'altro la Juve. La Juve da quello che mi spaventa di lui ha la capacità di beccare l'inserimento giusto al posto giusto, al momento giusto che è una roba fuori dal normale per un giocatore della sua età perché sai, tanti giovani della sua età non hanno quell'intelligenza di cogliere il momento e il posto in cui buttarsi. Lui è acuto da quel punto. Ma poi è fondamentale per gli equilibri in fase difensiva quando si alza quando va tra le linee quando torna a rispettare la fascia nel 4-4-2 è interscambiabile all'interno della stessa partita perché lui col Parma parte sulla destra poi va a fare il centrale e poi ritorna sulla destra cioè no no gran giocatore e da quello che so io notizia di mercato a prescindere dagli obiettivi per raggiungere che obbligherebbero poi la Juve a pagare il 18 e mezzo la Juve ha già comunicato l'entulaggio che lo riscatta a prescindere lui mi sembra strafelice di essere alla Juve e beh sì ma è anche ben voluto un bel personaggio coccolato in America sta prendendo un bel seguito quindi bene così bene così ha votato miglior calciatore della nazionale americana del 2020 a proposito Sami Chedira te lo difico già senza neanche commento dai non andiamo avanti Bernardeschi mediocre sì perché ha iniziato male poi si sta riprendendo ha fatto qualcosa è iniziato male riprendendo qua e là però è assolutamente un calciatore secondo me senza futuro la Juve nel senso che se consideriamo i 40 milioni consideriamo le aspettative che c'erano il ruolo originario sei andato un po' a toppare qua e là con Bernardeschi però quando succedono secondo me quando poi ci sono questi epi cioè quando tu prendi una strada così sbagliata devi cambiare squadra e beh è ormai scontato una storia ormai scritta cioè Bernardeschi cosa può fare il terzino la sua riserva del terzino sinistro adattato lui che è stato numero 10 a Fiorentina 40 milioni no caro Federico per la tua carriera scegliti una nuova squadra che lo rimetta come diceva Garzia che rimetta la chiesa al centro del villaggio ma sì ma anche per lui stesso credo che poi lui se un carri lui nazionale fa delle belle prestazioni nel 4-3-3 come esterno d'attacco quello è il suo sì sì è una squadra che giochi con quelle caratteristiche in cui lui guarda ti dico deve anche secondo me pensare magari di fare un passo indietro a livello di la zona della società cioè adesso ti dico una cacchiata che non è assolutamente un ragionamento che sto facendo ora si chiama Sassuolo ti dice c'è dei zerbi facciamo il 4-3-3 4-3-3 magari Berardi va via per il mercato non lo so lui deve accettare una condizione simile per ritrovare concetti autostima e incisività che lui ha perso io secondo me Chiesa bene a me piace a me è piaciuto tanto come si sia addentrato nel mondo Juve poche parole tanti fatti gol con la secondo me tecnicamente non gol con l'Atalanta a Benevento cambio di gioco per Morata di sinistra a 70 metri di campo Crotone Assis poi vabbè viene anche Spucci giustamente in quella gara sta determinando il ragazzo io lo metto ma la partita che a me più piaciuta di Chiesa è stata quella col Toro dove era a un certo punto cercare di uscire dal torpore collettivo a dare segnali scosse a richiamare il raccatta palle per battere subito una rimessa Chiesa è un giocatore settato poi possiamo stare qui ora a discuterne le caratteristiche le qualità le peculiarità ma Chiesa è un giocatore da Juve per applicazione Di Bala dai male Di Bala male 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 non lo puoi mettere neanche in mediocre perché non ha determinato a parte male male bene ma trovi i numeri sono impietosi e ha un gol in Champions League regalato dal portiere Ferenvaros c'è il lampo di Genova però tante chiare a Genova se guardiamo la prestazione non ha giocato bene no però qui la riflessione va fatta sull'evoluzione della Juve è chiaro che questa squadra per come sta evolvendo è difficile che possa far diventare Di Bala un perno una parte integrante perché è un calciatore che per indole calcistica tende ad abbassarsi tende a non riempire l'aria la Juve con Morata è una Juve la Juve con Di Bala noi siamo all'opposto perché noi abbiamo bisogno di riempire l'aria è proprio un concetto se tu vai a vedere il gol di Kuluseschi per esempio con il Parma ci sono cinque giocatori dentro l'aria cioè sì quello è anche un discorso che esola un pochettino dell'attaccante nel senso che la Juve con le ultime partite ha iniziato a riempire molto bene l'aria però quando tu giochi con Di Bala e Ronaldo come è accaduto nel derby era desolante vedere come mai nessuno attaccasse il primo set beh ma anche col Genoa c'era Ronaldo che si staccava andava sul centro-sinistra e Di Bala sul centro-destra ma io cosa ma io tu ti ricordi cosa ho detto quest'estate ti ha ricordato anche Michael Righini io ho detto per me per come io avevo avuto delle chiacchiericci a livello di idee di calcio di Pirlo quando me l'hanno spiegata c'è Michael Righini che te l'ha detto in un video recente eravamo ad agosto io e lui in una birreria a Rimini ah no l'ha detto a Kino scusami a Kino io ho detto Michael se vuole giocare davvero così Di Bala è il terzo in questa squadra e in mesi mi ha dato ragione e ti dico anche che secondo me sarà molto ma molto difficile che Di Bala possa diventare un calciatore che metta solamente il dubbio tra lui e Morata per le idee di Pirlo non sto dicendo ovviamente è tra i attaccanti sei corto ovviamente Di Bala però ti dico anche che non è quel tipo di calciatore che secondo me cambierà le gerarchie perché è una Juve che ha un'evoluzione con determinati concetti che richiedono un lavoro particolare alla punta e Di Bala quel tipo di lavoro non c'era le sue caratteristiche Kulusevski bene 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 per me è bene perché te lo spiego innanzitutto tre gol questo è vero Sampdoria 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 Verona e Parma vero col Parma poi sei partite di fila sei in panchina poi fai una titola poi vai in panchina non gioca mai nel suo ruolo l'incompatibilità con Di Bala non gioca mai nel suo ruolo naturale che lui esterno attacco nel 4-3-3 l'ha fatto la differenza nei dieci gol che ha segnato l'anno scorso col Parma prendi un ragazzo di vent'anni lo catapulti alla Juve con una nuova guida tecnica con il 60-70% della cosa nuova gli chiedi un ruolo in cui non ha mai giocato prima seconda punta tipica poi trequartista e ragazzi vanno anche al di là della questione puramente tattica io lo vedo sulle gambe secondo me sta facendo un po' di fatica attualmente a smaltire anche un po' di carichi beh sì ci sta tutto però se tu vuoi vedere comunque i tre golli ha fatti ha fatto fatica però per me bisogna fotografarlo all'interno dei cambiamenti tu dici che nonostante le difficoltà di cambiamento il suo impatto non è stato assolutamente negativo ma è stato anche in parte positivo e quindi visti il cambiamento ora è bene ora è bene se fra sei mesi fa le stesse prestazioni a quel punto è mediocre ma prima ora sono d'accordo sono d'accordo il ragionamento che ci sta mettiamolo su bene e vabbè questi due non c'è bisogno mettili sopra mettili mettili sopra il browser mettiamoli su top come dire aspettavi questo impatto di Morata no io non ero lo sai come la penso e anche l'ho detto alla tua fanbase in qualche diretta io ero molto affezionato a Morata perché mi ha regalato delle notti incredibili giornalistiche non vi dà il vivo in Champions in casa e fuori quindi ero sicuro che in Europa potesse essere un fattore Morata ma a me preoccupava il Morata del campionato quando si assentava sei mesi quando spegneva la testa io poi dico onestamente come tutti voi non è che segua in maniera certosina l'evoluzione dei calciatori salati via all'estero cioè non è che mi segua tutte le partite del Real del Chelsea o della Tredigo Madrid vedevo un calciatore che in Europa comunque contribuiva a mandare a casa Liverpool perché comunque qui segna ed era un calciatore che aveva anche una bella meretti ne avevamo anche parlato però che lui facesse la differenza con questa continuità con questa disponibilità e con questo rendimento io non me l'aspettavo una partita ha steccato una partita basta ha steccato solamente quella con l'Atalanta come Ronaldo ma è stata l'unica che in un contesto di un ciclo così importante di tante partite ravvicinate ci può stare che poi lui ha avuto persino l'opportunità di segnare non l'ha buttata dentro perché poi si segna la cambia le cose poi gli ha fatto un miracolo Gollieni comunque c'è sempre lui è sempre ma ti dico poi secondo me la fotografia di Morata nella coesistenza con Ronaldo è il cross di Parma cioè una palla che lui ha poi lui non vive con l'assidio del gol tanto gli arriva gli arriva il gol con l'Atalanta con l'Atalanta gli fa un passaggio a Ronaldo che ci lecca che ci spica lì sul ecco l'unica l'unico neo è che secondo me deve diventare più cattivo anche quando c'è Ronaldo a suo fianco cioè a Benevento no credo che fosse a Benevento no noi sono l'Atalanta quando fai il passaggio a Piano però c'è un'altra c'è un'altra che secondo me se non mi dico forse con lo Spezia ci sono situazioni dove secondo me lui deve diventare cattivo nel tu per tu deve tirare lui perché lui è forte fa gol non deve farsi influenzare dal fatto che a suo fianco ci sia Ronaldo perché Cristiano la palla non gliela dà esatto non gliela dà mai non gliela dà gliela dà mai quindi Ronaldo prima pensa a segnare però ragazzi c'è un upgrade rispetto alla coesistenza con Nibale e Guamini dell'anno scorso pazzesca poi se vogliamo c'è stata anche una grande fortuna perché io vi ricordo sempre che se Milik avesse risolto le sue pendenze con il Napoli Dzeko che non gioca la prima in casa del Verona perché doveva andare alla Juve il giorno stesso a fare le visite il mercato è così però ti dico la verità è bene che sia andata così perché prendere andata a 28enne nel più della maturità calcistica andare su un 34enne un 35enne sposta il mondo quindi dai per una volta il mercato ci è girato anche bene se vogliamo chiaro bene che dire questa è la nostra ragazzi tier list fatta insieme a Romeone questi sono i voti finora di Cristiano non mi hai detto nulla di Cristiano però vabbè dai che cazzo di voi tutto sarebbe superfluo tutto ciò che aggiungi su Ronaldo a volte indisponente in campo però determina punto anche nelle giornate peggiori tu lo chiami in causa a parte con l'Atalanta che è stata l'unica partita che con Morata hanno steccato insieme sì tra l'altro è pazzesco perché entrambi si sono presi una serata esatto quasi di ferie perché se il giorno diciamo di giocare secondo me vinciamo sì perché poi col Parma subito dopo col Parma hanno acceso entrambi no rispettivo Radar hanno fatto le differenze però sai è stato un po' come usare ma secondo te su scala mondiale la Coppa Morata Ronaldo quanti rivali ha chiaro che parliamo anche di tridenti quindi difficile fare un rapporto così però ti dico l'intesa Morata Ronaldo io la paragono a quella di Lewandowski con chi gioca la paragono che sta facendo bene con i vari del PSG però ti dico la coppia Morata Ronaldo in Europa può essere davvero devastante l'abbiamo già visto c'è sempre il Liverpool però ti dico l'anno scorso tu mi avevi chiesto in Europa Di Bala Ronaldo Higuain con Morata ti dico squadra settata guarda io dico anche che questa squadra se gioca al massimo delle sue possibilità con l'atteggiamento in campo se la gioca con tutte tutte alla grande non ne vedo io squadra con un palmo una spanna c'è il Bayern che sicuramente un pelo sopra però insomma te la giochi non gliela dai così facile facile e Pirlo però dove lo mettiamo mettiamo caso ci fosse una sagoma di Andrea Pirlo bene 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 perché alla prima alla prima esperienza io ho visto fare cose importanti nell'ultimo periodo dopo un periodo di difficoltà che ci poteva stare perché l'abbiamo detto questa rosa centrocampo non è assortita benissimo ha sempre è presente un po' come la copertina se la sollevi ti copri la un po' corta o da una parte secondo me adesso al di là dei risultati che sono fondamentali e la Juve ha un ottavo tra cioè sulla carta è agevole col Porto però anche con il Leone è agevole e si è andata a casa quindi in massima umiltà però hai buona chance di arrivare quarti campionato sei lì te la giochi ma c'è un po' di intenti anche c'è un bel gruppo io vedo secondo me è quello ti dico è la proposta di calcio che è importante cioè vedere i progressi di questa Juve con Pirlo che veramente ragazzi non ha mai allenato quest'anno cioè è riuscito a inculcare qualche concetto non avendo le settimane tipo per cercare di mettersi lì però può dire una roba nell'ultimo periodo ha reso la sua idea di gioco meno cervellutica sui compiti individuali dei singoli giocatori beh ma anche il fatto anche il fatto che abbia messo un centrocampista in più come McKennie fa capire come si è intelligente capito però ha sfruttato le caratteristiche dei singoli non ha forzato per esempio Ramsey a coprirmi la fascia sinistra in fase di non possesso e a buttarsi centralmente l'ha smessa di fare questi esperimenti ha detto non devo snaturare nessuno metto una presenza in più al centrocampo mi privo di un altro esterno perché magari chiese coluseschi insieme non riesco a metterci lì però dici così ho anche un'alternativa in più in panchina oltretutto non è una mossa sbagliata il lavoro soprattutto a lungo termine è buono è davvero buono chiaro che devi avere la fortuna come ha avuto lui nelle ultime prestazioni che però è fortuna e anche bravura e di avere qualche risultato della tua che ti dia entusiasmo che ti dia prima esperienza in panchina ha vinto comunque al Camp Nou 3 a 0 prima italiana a riuscire a fare questo risultato in Champions il campino è stato bello a parte la partita col Barsam se hai Cristiano Ronaldo per me non finisce 2 a 0 e non c'erano neanche delitte ragazzi no devo dirti la verità dai tra margini di miglioramento è la prima proposta poi l'idea è innovativa a livello di calcio non è usuale è quella che sta facendo a parte che è sua cioè vedo delle sue particolarità non è uno scopiazzare da poi ci sono certi certe idee prese da uno o dall'altro però è un modello suo è una roba completamente sua quindi bravo bene 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 ora ragazzi che dire iscrivetevi al canale di Romero ragazzi questo video è a Santo Stefano è grasso che 36 minuti il grasso è quello che abbiamo mangiato ieri caro mio esatto infatti adesso mi sa che ne approfitto una corsettina tu ma figurati la corsettina neanche tu in quei chilometri non li fai neanche in macchina figurati in macchina ti sto dicendo una corsettina la macchina no a parte a parte tutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di Romeo trovate il tag nel titolo mi raccomando Romeo passo la palla a te e io cosa posso dire iscrivetevi al canale di Lellone col Pogobo ma tanto già tanto non è vero perché molte volte tu me l'hai fatto notare perché noi abbiamo tante persone che ci seguono ma il rapporto iscrizioni visualizzazioni disastro non iscritti quindi ragazzi mi raccomando perché per voi un'iscrizione non è nulla ma per noi è tanto nel senso che poi ci permette di sostenere il canale e fare un po' più di qualità contenuti quindi mettete mettete ad avere anche un minimo di riscontro mettete like iscrivetevi da Colpo Gobbo fate anche a me a Toselli ma non da Kinosh a Kinosh dislike lasciamo perdere questi personaggi che screditano solo il nostro penale che poi qualche giorno fa ho visto che Bobo Vieri ha salutato l'angolo di Kinosh ha letto una lista e c'era anche l'angolo di Kinosh avrà fatto il ride? ah boh può darsi può darsi può darsi e ha ringraziato quelli che hanno fatto il ride è probabile è probabile grande Bobone oh ragazzo ciao ragazzi mi raccomando mi raccomando ci avviciniamo anche al saluto del 31 quindi ma chissà magari facciamo i prossimi giorni dai ciao a tutti ciao a tutti